l'artrosi è una malattia degenerativa che colpisce le articolazioni sia le grosse articolazioni che le piccole articolazioni può essere mono articolare ma molto più spesso è un percorso un processo degenerativo che incomincia dalle piccole articolazioni e poi si estende alle grosse articolazioni ovviamente le manifestazioni dolorose e peggiori sono spesso sulle grosse articolazioni pensiamo alle ginocchia le anche perché sono sottoposte al carico il carico il peso e la forza di gravità giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'artrosi abbiamo detto che è un processo degenerativo quindi coinvolge tutta l'articolazione questo vuol dire che coinvolge la cartilagine che è quello strato che si sovrappone le superfici osse che permette lo scivolamento delle superfici articolari ma anche la membrana sinoviale che è quella parte che invece avvolge completamente l'articolazione è un danno che prende tutta l'articolazione è un processo che va avanti negli anni colpisce prevalentemente le persone più anziane gli studi ci dicono che il 50 per cento delle persone che hanno più di 60 anni soffrono di artrosi quindi immaginiamo la popolazione italiana che è una popolazione anziana quanti sono le persone che si lamentano per il dolore causato da questi da questo processo degenerativo perché la cannabis allora intanto incominciamo col dire che non esiste una terapia per l'artrosi è un processo degenerativo quindi il massimo che noi possiamo fare è rallentare questo processo quindi abitudini di vita stile di vita alimentazione diete sono tutte cose che ci permettono di liberare le articolazioni dalla presenza di processi infiammatori quindi la presenza di qualche cosa che peggiora il processo degenerativo oppure stile di vita che ci permette di migliorare il movimento articolare perché non c'è nulla di peggio che bloccare un articolazione ma il vero dato è che questi pazienti che sono persone anziane insieme all'artrosi hanno altre patologie patologie spesso gravi patologie cardiache patologie renali patologie cerebrali diamete quindi patologie metaboliche che obbligano il paziente a assumere farmaci tali per cui fanno poi fatica ad assumere anche i farmaci che servono per controllare il dolore faccio l'esempio un paziente che assume un farmaco anticoagulante orale non può prendere gli antinfiammatori quindi avere a disposizione una pianta come la cannabis che ci permette di controllare il dolore ci permette di controllare il processo infiammatorio ci permette di controllare la risposta immunitaria verso questa articolazione senza che questa abbia effetti collaterali senza che si possa sovrapporre all'utilizzo di altri farmaci è sicuramente un grande vantaggio per questo sempre più nelle persone anziane si va utilizzando si sta utilizzando la cannabis anche per il trattamento dei dolori che hanno una genesi artrosica